Per mezzo a squadre! Non risparmiate nessuno! Aereo spia pronto! Il nostro aereo spia è in volo! Approvvigionamenti pronti per la consegna! Indicateci la destinazione! Aereo spia alleato in arrivo! Approvvigionamenti alleati in arrivo! Approvvigionamenti pronti per la consegna! Designate il punto di lancio! Approvvigionamenti alleati in avvicinamento! Il nostro aereo spia è in volo! Aereo spia è in volo! Cobra disponibile! Cobra alleato in arrivo! Il nemico sta disturbando i radar! Aereo spia nemico in arrivo! B-1 B-2 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 Il nostro aereo spiega è in volo! 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 Aereo spiega è in volo! Il nostro 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 aereo spiega è in volo! Spiega è in volo! Spiega è in volo!